Lo scopo della pillola di latino di quest'oggi è molto semplice. Cercare di non confondere più due subordinate che purtroppo in latino formalmente sono identiche, cioè la subordinata finale e la subordinata completiva volitiva. Cerchiamo di essere precisi e sintetici. Ragioniamo in tre momenti diversi. Partiamo da un primo punto. Che cosa sono queste due diverse subordinate? Certo, sono entrambe proposizioni subordinate, ma attenzione bene, di due tipi completamente diversi. Perché? Perché la finale è una subordinata di tipo avverbiale, mentre la completiva volitiva è una subordinata di tipo sostantivo. In concreto, le subordinate sostantive sono indispensabili, non possono essere eliminate da un periodo, se no la reggente non si comprende più. Viceversa, la finale è una subordinata avverbiale e, come tutte le subordinate avverbiali, certo racconto una cosa importante ma non così fondamentale per la comprensione della reggente. Dunque, punto uno, certo sono due subordinate entrambe, ma di tipi diversi, di importanza completamente diversa. Fondamentali le volitive, tutto sommato accessorie le finali. Secondo punto del nostro ragionamento, cerchiamo di essere ancora più concreti. A che cosa servono queste due diverse subordinate? Anche qui servono a due cose del tutto diverse fra di loro. Quali? La finale serve semplicemente a spiegare, a raccontare, lo scopo, cioè l'obiettivo, la finalità di quanto viene raccontato dalla frase reggente, che però è già di per sé una frase completa, dotata di senso compiuto. Invece la volitiva serve a completare il significato della propria frase reggente, che invece è fortemente incompiuta, incompleta, non ha ancora un significato pieno, e dunque ha bisogno di un'aggiunta indispensabile. Del resto le volitive si chiamano completive volitive, servono appunto a completare la reggente. Terzo passaggio. Come non confondere queste due subordinate? Vediamolo con due esempi molto concreti, in latino e in italiano. Partiamo dalla frase A, che dice così. Testes interrogaverant ut veritatem cognoscerent. In italiano essi avevano interrogato i testimoni per conoscere la verità. La subordinata è ut veritatem cognoscerent, fatta con ut e il congiuntivo, in questo caso imperfetto. Osservate ora il secondo esempio, l'esempio B, che dice così. Te rogaveram ut venires. In italiano ti avevo pregato di venire. Osservate la subordinata ut venires. Anche qui ut più congiuntivo, di nuovo imperfetto. Attenti bene. Dal punto di vista formale, strettamente grammaticale, è vero. La subordinata A, che è una finale, si fa con ut il congiuntivo. La subordinata B, che è una completiva volitiva, di nuovo con ut più il congiuntivo. Sono formalmente identiche. Ma ecco la differenza nella sostanza, nel significato, nell'importanza di queste due subordinate. Osservate anche soltanto la traduzione in italiano del due frasi, e guardate soltanto le due reggenti. La prima, essi avevano interrogato i testimoni. È una frase breve, ma completa, dotata di senso compiuto. Esempio B, ti avevo pregato. Vedete, questa reggente non ha pieno significato. È una frase lasciata a metà. Per lei è indispensabile un completamento. E dunque la finale, per conoscere la verità, certo è un'informazione importante, ma accessoria, se ne potrebbe fare a meno. Invece la subordinata divenire ci è indispensabile per completare il senso della reggente, ed è dunque una completiva volitiva. Formalmente identiche, sostanzialmente diverse. E il trucco è molto semplice. Soltanto alcuni tipi di verbo possono introdurre una subordinata completiva volitiva. Verbi che ad esempio esprimono un comando, un ordine, o comunque una volontà forte della persona di cui si parla nella reggente. Dunque, se la reggente è, diciamo così, completa, dopo ci sarà una finale. Se viceversa la reggente è incompleta, perché il suo verbo è un verbo che ha bisogno di un completamento forte, ecco che dopo troveremo la subordinata volitiva. Spero di esservi stato utile e di essere stato sufficientemente chiaro. Se è stato così, lasciate un like a questo video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube. E vi attendo presto per nuovi video sul mio canale. Alla prossima!